Non bellissima la barra di oggi di Campari, il titolo ha chiuso intorno ai 12,03, però la barra non è bellissima, forse frutto dell'incertezza di Wall Street. Con l'America un po' debole Campari soffre di più, comunque l'indice italiano si mantiene positivo, oggi è stato annullato l'impulso ribastista da parte del mercato e dopo solo due sedute consecutive, adesso vedremo, il DAX sta spingendo verso l'alto, dovrebbe aiutarci il DAX a spingere a trainare l'indice italiano e tutta Europa e così anche Campari. Sul fronte delle notizie è l'unica e l'ennesimo acquisto di azioni proprie che sta sostenendo il titolo, ne sono state comprate 885 mila nella settimana prima di Ferragosto, tra il 9 e 13, quindi la stessa Campari che ha comprato azioni proprie con una media di prezzo di 12,01, ne sono state comprate un controvalore di 2.231 mila. Ma andiamo a vedere sulla piattaforma come si sta comportando Visual Trader, ovviamente come si sta comportando il titolo, eccolo qui Campari con lo strappo verso l'alto, il superamento di 12,09, poi c'è rientrato leggermente, la barra di oggi come vi dicevo non è bellissima, è la barra del 18 di agosto, non è bellissima, vedremo se riuscirà a salire fino a 12,45 e per ora manteniamo un rapporto di rischio e rendimento 1 a 1, non è bellissimo, però il FIB ha fatto 0,55, ha uno spunto verso l'alto, meglio ha fatto più tonico appare il DAX. Certamente questo titolo non offre rendimenti altissimi, 0,51 il dividend yield atteso per il 2021, 0,56 nel 2022, 0,60 nel 2023 a fronte di 0,26, 0,30, 0,34 utili per azione. Il fatturato dovrebbe essere a 2 milioni, 2 miliardi nel 2021, 2 miliardi e 2 nel 2022 e 2 miliardi 350 mila nel 2023. Cosa dicono gli altri analisti di Campari? Beh c'è qualcuno che pensa che il titolo possa superare addirittura i 12,45, Kepler con 13,20 di Target, JP Morgan con 13, Acros di 12,70, c'è qualcuno per la verità altri come Equita che danno target più bassi dei 12,45, 11, 10,80, 10,60, Mediobanca, Credit Suisse ed Equita, ed Equita rispettivamente. Ecco questo diciamo sì è il quadro, fermo restando che l'EUL ha un'altra notizia importante che è stata data e sono gli annunci che ha fatto l'amministratore delegato nei giorni scorsi dicendo che Campari ha un trend di crescita che è superiore, è un trend di crescita a due cifre frutto di una voglia di socialità delle persone, di dialogare, una voglia di socialità che è simile a quella della seconda guerra mondiale quando il crash del beverage fu a doppia cifra, durò per 10 anni, qui dovremmo essere tra i 2 e i 3 anni. Per la verità oggi ha pubblicato i dati Kalsberg, un colosso della birra danese, un grande produttore dei birra danese dove il tasso di crescita dell'utile è a due cifre, è oltre il 10%, ma il tasso di crescita dei ricavi è 5%, è un po' più modesto di quelli, ha due cifre. E comunque l'e-commerce non è sviluppatissimo, 1% in Y, 3% in US, 10% in UK, vedete non è 1%, la società resterà autonoma, però la cosa più importante è questo ritorno alla convivialità che sta aiutando il titolo Campari. Per quanto riguarda il contributo video di oggi è tutto, io vi do appuntamento ai prossimi giorni sempre per aggiornarvi su Campari, ma non solo a questo punto, anche il DAX come vi dicevo ha una bella impostazione, vedremo se andrà a superare i massimi, non ci sono volumi abnormi che fanno da muro a un'ulteriore accelerazione positiva, mentre l'America appare più incerta dopo la pubblicazione delle vendite al dettaglio, che ovviamente andranno a ridimensionare qualche banca d'affari addetto alla crescita del PIL, più vicino al 6% rispetto al 7% precedente. Ed è davvero tutto per il contributo video di oggi, io vi do appuntamento ai prossimi giorni.